Vi do una notizia molto bella che riguarda il creatore di Dragon Ball che purtroppo è morto, Akira Toriyama. Ebbene, pensate che i tifosi del We-Lad, squadra di massima divisione, hanno creato una coreografia davvero pazzesca in onore del grande Akira, colui che creò il manga Dragon Ball, Ipero, e che purtroppo è morto, ci ha lasciato il primo marzo del 2024 a 68 anni di età, per colpa di una madonna assoluta. Infatti, pensate che è stata, diciamo così, creata questa coreografia dove si vede il volto di Goku, il volto storico, protagonista di questo famoso manga e anime, che è apparso per l'ostradio. Dall'alto, la visione di Goku è pazzesca, è stata fatta veramente benissimo, azzardo in una maniera straordinaria, bella e affascinante. Vi dico soltanto che i volumi di Akira hanno avvenuto più di 260 mili di conti in tutto il mondo, ed è Dragon Ball ad oggi uno dei manga più guardati, più visti e più conosciuti di sempre. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, iscrivetevi al canale narratore italiano commentare e che la riposo in pace.